Eccoci a provare l'Arbos P5000 Lo abbiamo tanto aspettato, se ne è parlato moltissimo Finalmente lo vediamo al lavoro Stiamo operando in provincia di Bologna Con un bivomere dell'Ermo Su un terreno abbastanza resistente Soprattutto molto secco per la città di quest'estate 2017 Vediamo come se la cava questo nuovo marco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti